Rai, piacere rispondere la O O ordinare ogni tanto Allora ho cercato tanto di togliere l'eco e buongiorno così tanto per In un video precedente ho cercato per ore una tazza contenente un liquido pseudo caffeinoso Adesso questo se è caffè sta messi molto male perché è un po' quazza sporca Però niente col cavolo trovarlo oggi pronti via il generatore Prima immagine che mi mette è questa io la tengo va bene ti sfido Caro generatore che sfida del cacchio sinché risolvere carote Cambiamo un po' il titolo di questa canzone di oggi proprio biuta lui proprio biuta Rai, piacere rispondere la O E' questo, questo è il titolo Potrebbe essere un nuovo programma sai non è la Rai Com'è che era pronto Raffaella? Pronto Raffaella? I vecchietti come me se lo ricordano Io ero minuscola però Mi ricordo quel programmino lì Credo che fosse pronto Raffaella Dove c'era la Raffaella Carrà che rispondeva al telefono e E vocero un quiz una roba del genere non me la ricordo va bene Però Rai, piacere rispondere la O potrebbe essere il nuovo fantastico format di Rai 1 Cara mamma Rai Dovrei spendere molto per ottenere questo titolo da me Rai, piacere rispondere la O A Ordinare ogni tanto Rai, piacere rispondere la O A Incontrare e fisare carota Free climbing Ferire Odioso burro nocciola Perché è odioso? Vabbè, lo odi Sposto il cavo Crac, crac, crac Cacao a venire usare Le Nike, Rivelli, Le Vare Ospedalieri, Il Concrepare Guarda che c'è Raffaella Carrà Che è ostile però perché le fa schifo questo titolo Hai ragione Raffaella Hai ragione Eppure ricordare Galangal Shall bedo preoccupare Questo testo è perfetto Ho citato la Carrà senza saperlo E lei è qui Lei è qui Carramba, che sorpresa E scegliamo un ottimo pass Tipo questa Come fai No, questa qua non mi pianta E allora, se vi voglio cambiarla Circo la medievale Mi sembra proprio Adatta, adatta Questa qua non è mai fatta Ok, c'è tutto un intro di sette anni Però Poi il tempo entra dopo Vabbè Facciamo questa Vado Oh Rai 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 Piacere Rai 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 Free climbing, ferire, odioso burro nocciola Cacao venire, usare Le Nike, ribelli, levare O, spedaliero, il concreppare Rai, piacere, rispondere la O Rai, piacere, rispondere la O Rispondere la O, famoso, piccolo calvello Ostile Raffaella Carrà Eppure ricordare Galangal Chalbeto preoccupare 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 Grazie a tutti.